L'Arezzo vuole tornare alla vittoria dopo due pareggi consecutivi, un altro derby, stavolta contro un grosseto che dal punto di vista societario sembra navigare in cattive acque. Nel frattempo la società Amaranto ha anticipato i tempi assicurandosi le prestazioni di Niccolò Gucci, classica punta d'area di rigore, 32 anni, grande esperienza, il finalizzatore chiesto dal tecnico Paolo Indiani. Sì, era uno dei nomi su cui si stava lavorando, crediamo che abbia le caratteristiche per poterci aiutare e speriamo che lo dimostrino. Domani l'Arezzo cerca la vittoria che manca da due giornate, di fronte c'è un grosseto che apparentemente è in difficoltà, però c'è poco da fidarsi. Sì, si ha detto bene, apparentemente perché non più tardi di tre settimane fa ha fatto una partita a Livorno molto bella alla Fari e domani ha perso immeritatamente per la San Giovannese. Secondo noi ha dei buonissimi elementi, ha dei buonissimi elementi che i numeri della rassifica hanno testimoni. È una partita difficile ma come tutte tra l'altro. Cambierà qualcosa dal punto di vista tattico? Vediamo, è chiaro, stiamo cercando altre strade per vedere se si risolve questo benedetto problema realizzativo. Che si cambi subito dall'inizio, penso sia difficile, però ci stiamo lavorando su altre cose. Però l'Arezzo continua a giocare bene, tiene palla, ha piede, corsa. Insomma, diciamo che nonostante il secondo posto si può guardare il futuro con grande ottimismo. Ma il secondo posto è l'ultimo dei problemi che mi assilla assolutamente, è chiaro, siamo più contenti di essere primi. Io ero molto più contento di essere primo, però è andata così, queste partite talmente strane. Il secondo posto non è che ci è ondizione, io credo sia opportuno fare, come ho detto, continuare gamba, piede, corsa, determinazione e risolvere questo benedetto problema realizzativo. Poi se facciamo questo il secondo posto tra un po' si ritrasforma in primo. E chiudiamo con il nuovo arrivato Niccolò Gucci. Se arriva l'ok per il tesseramento andrà in panchina già domani. Beh, dipende se le pratiche di tesseramento e che provano oggi a risolverla. Se ce la fanno può anche darsi, altrimenti non sarebbe utilizzabile.